quando compri una fettuccia perché pensi di farne qualcosa all'uncinetto e finisce che invece ci costruisci intorno al bordo all'uncinetto un intero modello il bordo all'uncinetto è unito su una manica kimono il punto ha fatto il resto dando vita a un ricercato modello spolverino che mi godo con molto piacere si nota la lavorazione trasversale l'unione nelle maniche e diciamo che il più delle volte poi si esagera e il grande bordo all'uncinetto lo ripeti anche nella parte terminale ci sono modelli che sembrano nascere per conto loro come vogliono loro